Ieri il Chelsea vincendo per 2-1 contro il Palmeiras ha permesso all'Europa di assicurarsi nuovamente la competizione. Inizialmente avevo pensato di portarvi in questo video i 10 motivi per cui il mondiale per club facesse schifo, ma i motivi erano tutti piuttosto futili e ormai triti e ritriti. Davvero vi basterebbe pensare al fatto che annualmente ormai tutte giocano e poi vince sempre quella che deriva dal nostro continente. Oggi allora vi porto 5 modi per rendere il mondiale per club addirittura più bello della UEFA Champions League. Prima di iniziare vi invito se non l'avete già fatto ad iscrivervi al canale e lasciare tantissimi piace qui sotto e quindi noi partiamo subito. 1. Tutte alla pari. Il problema maggiore della Coppa del Mondo in questione è lo stesso che affligge la Coppa Italia. Le competizioni diventano interessanti se tutte hanno le medesime possibilità e quindi le sorprese sono all'ordine del giorno. Se invece alcune devono fare appena un paio di partite allora il tutto diventa molto prevedibile. Guardate ad esempio l'edizione di quest'anno. Il Chelsea è partito addirittura dalle semifinali esattamente come il Palmeiras ed entrambe è basta da vincere una partita per giocarsi il trofeo. Una soluzione insensata che toglie ogni tipo di curiosità. Basti pensare che per colpa di questo format negli ultimi vent'anni abbiamo sempre avuto un'europea in finale e solamente tre volte ha vinto un altro continente. Sempre quello sudamericano tra l'altro. Partire tutte insieme quindi, dover affrontare più gare allora potrebbe essere un incentivo a regalare sorprese. 2. Il periodo. Ogni volta il mondiale per club si gioca inizio anno. Tra gennaio e febbraio. Quasi come se si avesse voglia per colpa dei troppi impegni del calendario fitto di toglierselo dai piedi. In realtà questo è sempre il periodo peggiore. Sono pronto a scommettere che quasi nessuno di voi sapeva che ieri si giocava la finale. Se non dopo aver ricevuto ovviamente su Instagram una marea di post in faccia con il vostro home in vasa di foto di Giorginio che alzava la coppa. Giocare in questo periodo poco prima della Champions, subito dopo le coppe nazionali e tra un turno e un altro di campionato non aiuta affatto. Il periodo migliore allora probabilmente sarebbe l'estate. Molti di voi ora diranno, ma ad essere speso si giocano le competizioni per nazionali? Beh, ci arriviamo nel prossimo punto. 3. La cadenza. Giocare tutti gli anni lo rende un torneo abbastanza scarno. Sicuramente di seconda fascia. So già cosa state pensando. Sì che però la Champions si gioca tutti gli anni. Vero, ma è anche vero che la Champions vede ogni anno darsi battaglia 32 tra le migliori squadre d'Europa. Qui dove il calcio è, dispiace dirlo, assolutamente di un altro livello. Giocare la Coppa ogni anno significa sorbirsi, in questo caso, quasi delle competizioni fotocopia. La mia idea sarebbe quella di giocarla una volta ogni quattro anni, in estate, rigorosamente a un anno dispari. Quello in cui non c'è né il Mondiale, né l'Europeo e nella Nations League. E poi, ovviamente, accodare Coppa America, Coppa d'Africa, Coppa CONCACAF e Coppa Asiatica con l'Europeo, in modo ovviamente da avere uniformità. 4. Il Format Se c'è un modo per rendere la competizione assolutamente appetibile, è quello di rendere il format il più commerciale possibile. E quello più commerciale possibile, ormai studiato e testato, è quello del Mondiale Attuale, che è poi il medesimo che viene utilizzato in UEFA Champions League, con l'attenuante della ripetizione casa trasferta. Sogno, quindi, un Mondiale per club fatto una volta ogni quattro anni, come dicevo, in modo che giocarlo per un calciatore è un unicum e che, se ti va bene, lo giochi due volte in tutta la tua carriera. Farei otto gironi da quattro squadre. Passano le prime due, ottavi, quarti, semifinale e finale, esattamente sul modello del Mondiale vero, giocato in estate, tutto nello stesso luogo. La vincente così avrà giocato sette partite e vincerà una Coppa che varrà moltissimo. E la più importante, ovvero cinque, è le partecipanti. Ma se ad oggi le partecipanti sono appena sette, chi parteciperebbe a questa Coppa a 32? Ve lo spiego subito. Otto di queste sarebbero europee, ammesse grazie alle vittorie in quattro anni di Champions League ed Europa League, quattro vincenti di Champions e quattro vincenti di Europa League. E se capita una ripetizione nella vittoria di una o l'altra Coppa? Si scelgono quante più ci sia bisogno squadre dal posto più alto del ranking, fino ad arrivare a otto. Altre sei sarebbero sudamericane, quattro vinciteci della Coppa Libertadores e altre due con il punteggio ranking più alto. Altre quattro le prendere dall'Africa, vinciteci della Calf Champions League. Altre quattro le prenderai dal centro Nord America, derivanti dalla CONCACAF Champions League. Altre due le prenderai dall'Oceania. Ovviamente il numero è fatto in base a quante volte vincerete il mondiale, se inizieranno a vincere le sudamericane avranno più partecipanti annesse. Si affrontano in un playoff di continente tra l'altro le quattro vincenti nei quattro anni della OF Champions League. In totale sono 28 le squadre così. Gli altri sei posti escono dai preliminari, nei quali si affrontano le quattro squadre uscite vincitrici delle quattro edizioni della Conference League Europea, le quattro squadre che hanno vinto la Coppa Sudamericana, cioè l'Europa League del Sud America, le quattro squadre che hanno vinto la Coppa Araba e le due squadre che hanno perso lo spareggio in Oceania, per un totale 4-8-12-14. Ogni girone ha delle regole prestabilite, dove non possono esserci più di un tot per continente. Per farvi un esempio, ad oggi parteciperebbero di europei Chelsea, Bayern, Liverpool, Real Madrid, Villareal, Siviglia e Atletico Mediante Champions ed Europa League. Insieme al Manchester City, che è secondo nel ranking, dopo il Bayern Monaco già partecipante, perché il Chelsea ha avuto due successi in quattro anni. Insomma, un torneo che in questo modo sarebbe imperdibile. Per fare quindi un resoconto finale, il mio mondiale per club si giocherebbe d'estate, una volta ogni quattro anni, si giocherebbe con 32 squadre e non più con 7 squadre. Ogni paese avrebbe la possibilità di portare diverse squadre, quindi giustamente in pari con quello che già viene fatto in UEFA Champions League, ma il format sarebbe assolutamente mondiale. Questo permetterebbe al nuovo format di diventare ovviamente imparagonabile con tutti gli altri format. Avremmo degli scontri super interessanti e ogni partita e ogni gara del girone sarà interessante perché potrebbe ovviamente regalare sorprese. Inoltre non è da escludere il fatto che il Chelsea, che quest'anno ha vinto la UEFA Champions League, possa uscire prima, non solo perché presenziano squadre come Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid, Villarreal, Serie A, Tretico Madrid e Manchester City, ma anche perché le tante squadre che partecipano della Copa Libertadores potrebbero mettere in difficoltà ovviamente le europee. E questo per me renderebbe questa competizione che ad oggi è bistrattata e secondo me anche poco considerata assolutamente imperdibile. Questi quindi ragazzi erano cinque motivi, cinque modi per rendere il mondiale per club più bello della UEFA Champions League, fatemi sapere, mi raccomando, la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio tantissimi, mi piace, buosciolala come sempre, commentate facendomi sapere voi come lo trasformereste e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video!